Sono terminati i lavori di riasfaltatura di via Pinamonte, dall'incrocio con via 25 Aprile fino a via Mazzini. Oltre alla posa del nuovo sedime è stata ricaliberata la sede stradale e sono stati effettuati alcuni lavori collaterali, come l'allargamento del marciapiede all'incrocio con via Mazzini, ora più fruibile, e l'eliminazione della pensilina del pullman, ormai inutilizzata e sostituita con una comoda panchina. Nei prossimi giorni sarà rifatta anche la segnaletica stradale.